buona serata e scusatemi se diciamo non ho mantenuto la parola di oggi per pomeriggio ma ho avuto la possibilità di fare altri video qui ma questo ve lo prometto è l'ultimissimo di oggi si è appena conclusa da pochi secondi proprio il primo quarto di finale della coppa italia di serie a di pala canestro italiana maschile dove milano ovviamente in campo neutro a pesaro ha travolto cremono per 86 a 62 in una partita dove ora vado alla cronologia ecco il primo quarto 28 12 il secondo 44 31 il terzo 60 51 e l'ultimo 86 62 quindi pienamente in mano a cremo scusate a milano vittoria poi votata abbastanza bene 1 e 31 1 e 33 1 e 34 quindi concludiamo l'olimpia milano batte cremono nel primo quarto di finale della coppa italia di serie a di pala canestro maschile italiana per 86 a 62 e ora aspetterà la vincente della gara che si giocherà sempre oggi alle 20 e 45 sempre a pesaro tra virtus bologna e venezia e chissà magari di avere un antipasto di uno scontro che io penso potremmo vedere anche playoff quest'anno molto bene sicuramente ciao a tutti a domani